dove l'amico Ciro mi ha detto ti devo far provare una mozzarella particolare ho detto va bene ma cosa avrà di speciale questa mozzarella guardate ci sono i bocconcini all'interno c'è praticamente Ciro una cosa è magia è un tebucco bellissima i toni che fai video che fai di me siamo assolutamente con il spirito mangiamo dai dai Leonardo fai bene le parti ma questa su Gelo d'America non c'è no questa magari la devo mangiare in Italia da San Matteo dai che bella collano proprio questi bocconcini succulenti ciao Cristina ciao Cristina bufala o non è bufala deve essere bucata la parla per farlo e ti noto un video suscríbete al canale e poi like un video e poi push